Aveva accettato la corte del Gela perché voleva regalare l'ennesima promozione ai colori che ama, il bianco e l'azzurro. Daniele Pandolfo è tra i più delusi per la mancata finale play-off di promozione. Il pareggio dello zia Lisa di Catania chiude la stagione tra tanti rimpianti. Non a caso Domenica, al fischio finale, era tra i più inconsolabili. Ci teneva tanto come ci teneva la squadra, come ci teneva il presidente. Abbiamo dato tutto, però purtroppo non è bastato. C'è tanta amarezza, tanta voglia che volevamo vincere, però purtroppo le situazioni, arrivare terzi, capita anche questo. Ci teneva e come alla promozione in eccellenza, il 3 maggio 2015 a San Cataldo era stato tra i protagonisti della cavalcata che portò il Gela in finale contro il Troina, battuto 1-0 con un gol di Saro Genova. Questa volta l'epilogo è stato diverso e come al solito, senza pelli sulla lingua, Pandolfo ammette che il Gela avrebbe dovuto vincere direttamente il campionato o quantomeno arrivare secondo. Era difficile perché la partita si era complicata, il campo brutto, loro avevano una squadra come DC2 esperta. Noi dovevamo vincere il campionato, il nostro sbaglio è stato quello. Purtroppo è capitato così, siamo arrivati i terzi e vincere qua non era facile. Ci abbiamo provato, ci abbiamo messo tutto quello che avevamo, però non è bastato. E' dispiace perché comunque la gente se lo meritava, il presidente se lo meritava, la società se lo meritava. Anche voi ve lo meritavate. Io ci tenevo tanto a regalare un'altra promozione, però purtroppo non ce l'ho fatta. Adesso la sua permanenza in bianco-azzurro è veramente in bilico, ma lo sport c'entra forse un po' meno. Cosa farà Daniele Pandolfo? Perché tu ci hai fatto capire che non vorresti rimanere per svariati motivi. Daniele Pandolfo è tanto legato, come hai detto tu, a Gela. Io amo Gela, è come se ho una seconda casa. Però devo capire anche il discorso lavoro, il discorso strada, il discorso da valutare. Sono stanco, veramente stanco. Ho subito questo infortunio, mi dispiace non aver aiutato la squadra nel momento che magari serviva. Io sapevo che magari serviva quel momento, però purtroppo gli infortuni capitano e mi dispiace anche per questo.